Vigilia di Udinese Inter per un allenatore ma per un giocatore, quando si arriva da un momento così un po' amaro come è stata la serata dell'Olimpico, è un bene entrare in campo subito, poter ridimostrare immediatamente o no? Io spero, sì, da un certo punto di vista ho chiesto proprio questo ai ragazzi, di non fare gli errori che abbiamo fatto contro la Lazio, di entrare in campo arrabbiati perché comunque al di là della prestazione dei 90 minuti sicuramente non meritavamo di perdere e ci deve bruciare ancora di più, però questo stato d'animo particolare deve essere portato al positivo in campo proprio nella partita successiva e sempre questo che ho chiesto ai ragazzi e spero di vederlo già da domani. C'è ancora un allenamento per carità, di fatto il primo allenamento perché ieri i gruppi erano separati, dopo la partita con la Lazio ho detto sì un po' di turnover, magari penserò rifarlo, sarà possibile vedere Milito, Icardi giocherà a Palassio? Allora, purtroppo Icardi, dato che il ritornello è perché non si gioca con due punte, Icardi domani che volevo provare a fargli avere un minutaggio importante, superiore, non posso averlo a disposizione perché ha dei problemi dopo l'operazione che ha avuto, Io tengo a precisare e a ricordare soprattutto che due attaccanti Milito e Icardi non li ho mai avuti a disposizione in questo primo avvio di campionato e quindi anche se avessi voluto, se loro fossero stati al top, fargli giocare in vicino a Palassio, non li ho mai avuti a disposizione proprio per avere anche un minutaggio totale, i 90 minuti, quindi chi vuol criticare o chi vuol dire qualcosa stia un pochino più attento anche a questi aspetti. Ecco, a proposito di critiche, è stata 48 ore dove si è sentito e letto un po' di tutto. L'anno scorso qua all'Inter avevamo, a seconda dei momenti, la comparazione, chi è che ha fatto l'affare? L'Inter con Cassano o il Milan con Pazzini? Adesso è cambiata un po' la logica. La comparazione viene fatta tra l'Inter di Stramaccioni dell'anno scorso e l'Inter di Mazzarri di quest'anno. Sono situazioni che probabilmente giornalisticamente catturano l'attenzione. Penso che le avrai lette, le avrai sentite, come le vivi? No, le vivo, ecco, io vorrei che i tifosi, ho avuto la sensazione che i tifosi dell'Inter siano molto attenti e competenti, non fossero forviati da queste informazioni che non hanno un presupposto oggettivo e logico. Perché vi spiego? Intanto, se si vuole fare il confronto fra l'Inter e il Milan, a questo punto, me l'hai fatto la domanda, io ci devo entrare, di solito guardo solo a casa mia. Non ci scordiamo che l'Inter, l'anno scorso purtroppo sappiamo com'è finita l'annata, quanti punti ha fatto questo gruppo che poi ho ereditato nel girone di ritorno soprattutto. Perché se avesse fatto i punti che ha fatto il girone d'andata, di sicuro non ci sarebbe probabilmente stato io all'Inter perché ci sarebbe stato l'allenato che c'era. Quindi il rapporto va fatto com'è finito il campionato e guardare con attenzione che i ragazzi che hanno finito il campionato poi hanno ripreso quest'anno a fare l'anno successivo. E sono arrivato io. Quindi il paragone è incredibile farlo ora e con i presupposti che non hanno un dato vero oggettivo. Perché, faccio un esempio, la squadra che aveva giocato il girone d'andata l'anno precedente, aveva a minimo 4-5 giocatori diversi da quelli che sono partiti quest'anno. In un campionato poi che è diverso totalmente da quello dell'anno scorso. Se voi guardate la forchetta che c'è fra le squadre, che ne so, dal quinto al terzo posto, guardate, fate la comparazione del campionato passato a quello di quest'anno. Fate la comparazione delle prime due. Il distacco che c'è dalla terza è dalla prima. Quindi non si possono confrontare questi due campionati perché nel frattempo altre squadre hanno fatto una campagna acquisti particolare, hanno fatto tante altre cose e se poi si entra sul paragone Inter-Mila, l'anno scorso non ci scordiamo che il Mila è arrivato terzo. L'Inter, l'ho già detto, è arrivato terzo con la stessa rosa che è ripartita quest'anno e che in più, ve l'hai suggerito te, hanno avuto dei giocatori in arrivo come Balottelli, come Pazzini, come quelli che tu hai citato e in questo momento tra noi e il Mila ci sono nove punti di differenza. Quindi l'annata dell'Inter va valutata in un modo totalmente diverso da quello che potrebbe essere valutato a quella del Mila e lì non voglio entrare se non mi ci portano dentro. Diciamo ai nostri abbonati che fondamentalmente sono speculazioni giornalistiche per far leggere, per vendere, ma che calcisticamente non hanno senso. I bilanci si possono fare solo al termine di una stagione, pur poi con tutte le difficoltà che portano alla comparazione tra l'uno e l'altro. Ma non mi sta nemmeno bene dal momento in cui, scusa se ti interrompo perché mi interessa questo precisare, che oggi ho visto la nostra annata essere paragonata a quella del Mila e non mi va bene in questo caso. I tifosi devono valutare le cose come le sto dicendo io, da un punto di vista obiettivo e oggettivo. C'è proprio una diversità totale tra le due cose, senza considerare che toccando ferro ad oggi, di là che noi abbiamo perso l'ultima, la squadra Mila l'ha vinta, sono ancora nove punti dietro di noi. Poi non lo so cosa succederà, ma ad oggi metterci a pari di loro non ha un senso logico, è totalmente ingiusto. Sai cos'è, è una classica reazione, siccome qualcuno il derby l'ha perso, ci sono delle reazioni che si stanno nel calcio milanese. Te la gioco con un sorriso. Torniamo un attimino a quello che invece è il futuro. Io vedo un Inter, targata Mazzarri, che comparandola con le altre è quella che, secondo il mio punto di vista, ha maggior possibilità di crescere ulteriormente nei prossimi mesi. Faccio una considerazione sbagliata? Calcolando proprio il tuo metodo di lavoro, come di partite, tu hai detto più volte, ed è vero, nessuna squadra ci ha messo sotto, nessuna squadra, cioè l'Inter se la gioca sempre per vincere, anche l'ultima partita, l'Inter giocava per vincere, la Lazio per non perdere, poi dopo il calcio ti fa arrivare che invece ha vinto la Lazio, per carità. Però è sbagliato fare questa lettura, proprio per dare un messaggio guardando a quelli che sono i prossimi mesi. Ci sono 20 partite, sono 60 punti, sono un'infinità. Sì, al di là di tutto quello che hai detto che è giusto, ma vedi questo è il mondo del Cossier, se vi pare, no? Per assurdo, ho sentito dire che l'Inter quest'anno, tante partite, da alcuni, ho sentito dire che si è difesa e andava in contropiede. Noi per ora non abbiamo mai ottenuto quasi niente, o quasi, ora non mi ricordo proprio nei dettagli, ma in contropiede abbiamo fatto pochissimi gol. Abbiamo preso i gol in contropiede. Perché? Perché attacchiamo quasi sempre noi, come abbiamo fatto a Roma con la Lazio. E questa è un'identità che una squadra in crescita deve avere se vuole tornare a essere grande, perché deve andare all'Olimpico contro una signora squadra come la Lazio e imporre il proprio gioco. Qualche volta, quando si è fatto, appunto, purtroppo delle ingiunità, si è perso anche dei punti, si è perso delle partite. Però io credo, come tu stai dicendo, che già a breve termine questo atteggiamento può pagare in modo esponenziale, ma soprattutto crea le basi per una crescita futura, anche negli anni, per ripartire da certi presupposti e crescere ancora come gioco, speriamo, e come soprattutto risultati nel futuro. Anche se, ripeto, non so quando, perché questa squadra, questa rosa, è stata anche, come dire, programmata con l'innesto di giocatori giovani, giovanissimi dico io, che devono crescere e se loro continueranno a crescere come stanno facendo in questo momento, il tuo discorso viene da sé. È tutto logico, ok? Quindi la programmazione, certe valutazioni vanno fatte in questa ottica, no? In tutto al contrario di quello che poi sta succedendo. Un'ultima, ritornando proprio alla partita di domani contro l'Udinese. L'errore più grande è ricordare quello che è successo in campionato? No, non bisogna pensarti, anzi domani mi aspetto una partita molto difficile, come del resto a Udinese sono tutte partite difficili. È un campo particolare, una squadra buona, un bravissimo allenatore, che magari anche loro in questo momento non attraversano un momento favorevole, ma hanno dei giocatori importanti che se noi dovessimo sottovalutarli probabilmente andremo incontro ancora a una delusione. Quindi dirò questa ragazzi, andremo là con grande spero attenzione e speriamo di poter passare il turno e purtroppo si deve giocare lontano dai nostri tifosi, ci avrebbe fatto comodo anche il sostegno di loro. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Inter Channel e poi scegli Sky Liberi di...